La CNA sta incontrando i principali leader politici ed esponenti del governo per evidenziare una serie di problemi che pesano su artigiani e piccole imprese. Il colloquio con la Revole Letta è stato utile e cordiale, con significative convergenze su molte questioni. In particolare la necessità di eliminare le pesanti restrizioni e l'eccessione dei crediti, dei bonus edilizi che stanno bloccando i cantieri e provocando gravi danni alle imprese. Abbiamo ribadito la necessità che il governo vari con urgenza un decreto per cancellare queste limitazioni. Non meno importante definire rapidamente interventi strutturali per contrastare caroenergia che sta mettendo in ginocchio migliaia di attività con preoccupanti effetti sulla ripresa economica.